Buonasera, incontro particolarmente impegnativo quello di oggi. Certo uno potrebbe dire sto sempre sul mio terreno specifico e ciascuno stia sul suo. Gli storici di settore lo fanno fin troppo, non c'è bisogno di incoraggiarli. Quindi se non è uno storico generale che cerca di leggere anche loro, è poco probabile che avvenga il contrario. Quindi, certo io non sono uno storico dell'arte, ma posso fare una ricognizione complessiva su Venezia nel 1800 ignorando la dimensione dell'arte? Certo che no. Quindi ne posso e ne devo parlare all'interno di un contesto generale e vivendo di rendita sugli studi degli specialisti. Anche in questo caso, non è la prima volta, mi servirò spesso degli studi di Gian Domenico Romanelli, ma non solo perché è stato a lungo direttore dei musei, ma in fondo nella storia di Venezia, dove per il novecento il curatore ero io e a lui che ho fatto ricorso. Quindi si è creato, diciamo, una circolazione, i suoi esaggi sono nati per via, così come quelli degli altri autori, naturalmente discutendone. Per cui riprendere in mano quegli studi di ormai vent'anni fa nella storia di Venezia Treccani e Cini mi ha riportato a un cantiere complessivo in cui io avevo un mio ruolo di curatore, quindi insomma di regista, di inventore dei temi, degli approcci e degli autori. E quindi è stato un rapporto più attivo e non semplicemente da lettore delle cose altrui. E d'altra parte, insomma, con le arti mi allontano meno dal terreno della storia culturale, della storia politica, che è quello che posso riconoscere più direttamente mio. La Venezia delle arti e degli artisti. Delle arti e degli artisti. Lo sottolineo, e degli artisti. In un seminario che implicitamente possiamo, implicitamente, anche abbastanza esplicitamente, possiamo considerare sotto le insegne di Ippolito Nievo. E io direi, esplicitando questa volta, farei un altro riferimento, rimasto implicito, ma che certo qualche uno avrà colto un seminario, anche legato a un famoso interrogativo di Francesco De Sanctis nella sua Storia della letteratura italiana, capolavoro e vera storia d'Italia, se mai ve ne fu una. È una frase continuamente ritornante quando si trova di fronte a un personaggio autore particolarmente intrigante. L'interrogativo è, ci è l'uomo? Sarà perché c'è quel ci e non quel c'è? Ma fin dai tempi del liceo, quell'interrogativo mi ha colpito moltissimo. Non c'era praticamente tema d'italiano in cui non trovassi la maniera per infilarlo questo. Questo faceva molto piacere, credo, al mio professore, al professor Zanon del Bo. E in ogni caso mi veniva naturale a me. Era un criterio di lettura che assumevo e facevo mio dal De Sanctis di chiedere anche questo quando mi trovo di fronte all'uomo di lettere, non necessariamente al purità, all'uomo di lettere, quello di cui si occupa appunto De Sanctis nella sua storia di letteratura. Ora, vabbè, questa è la prima volta che lo esplicito, però soggiace al mio modo di raccontarvi le cose. Mentre invece, beh, Nievo non ve l'ho mai risparmiato. Allora, stando così le cose, è chiaro che l'incontro non può essere solo sulle arti, ma è sugli artisti. E allora, visto che abbiamo appena nominato il grande Ippolito, c'è un altro Ippolito da nominare immediatamente alla luce del nostro attraversamento dei tempi di oggi e di questo discorso sulle arti, sì, ma anche gli artisti. Ed è Ippolito Caffi, il pittore Ippolito Caffi. Non vedo esplodere sulle vostre facce segnali di particolare riconoscimento. E allora vuol dire che sono socialmente utile. Bene, mi fa piacere. Mi fa piacere. Di che si tratta? Io oggi ho lavorato per fotocopie, quindi non ho portato i libri e non posso esibire il catalogo della mostra che c'è stato tre o quattro anni fa a Venezia in ala napoleonica nei musei civici. Quindi è recentissima una messa a punto di questo pittore che è bellunese, del 9. non vive sempre a Venezia, però c'è nel 48-49, c'è l'epoca dell'assedio, quando diventa capitano della guardia civica. E poi tutta una serie di altre cose, beh, lui è appunto questo uomo d'azione che Nievo in vera e ad ombra vive e racconta e che sta dietro a questo mio punto di partenza. Tant'è che lui va a fondo a Lissa, nella nave che va a fondo nel 1866. Dunque l'uomo d'azione paga di persone in modo netto. Ricordo di aver contribuito anche in una tavola tonda alla presentazione di quel catalogo, che era molto ricco, anche se legato in modo particolare al patrimonio di quadri e di stampe regalato, lasciato dalla vedva di Caffi, morto piuttosto giovane, ai musei civici. Quindi non è tutto Caffi, ma è quel Caffi veneziano, che molto spesso rappresenta anche la Venezia del 48-49, perché sia nel 48-49, era andato a fare disegni oltre che a fare il guerriero, sia nel 66, lui era partito per fare schizzi. In fondo la fotografia era appena alle origini, ma anche all'altezza della Prima Guerra Mondiale ci sono ancora i disegnatori ufficiali in diversi eserciti, quindi figurarsi mezzo secolo prima. Quindi vedete che l'intreccio tra la professionalità specifica dell'artista, del disegnatore, del pittore, del grafico e dell'uomo e del cittadino, ma è un intreccio intenso, forte, tutt'altro che occasionale. La mostra naturalmente è chiusa, ma il catalogo c'è, anche se, come vi ripeto, non è proprio tutto Caffi. Però appunto ricordo che l'impostazione di questo catalogo, di questa cura, e forse anche qualche recensione che mi è capitata di leggere in proposito, andava più nel verso di una critica di una storia dell'arte che preferisci stare chiusa al proprio interno, per cui il pittore nasce da pittore ed è parente di altro pittore. E gli intrecci che si devono accertare sono di quest'ordine qui. Quali passaggi di tecnica, di visione, vi sono stati e sono documentabili? Ovviamente è un lavoro prezioso, di carattere archivistico e non solamente di gusto, io mi guardo bene dal deprezzarlo. Però ho visto che, insomma, il Caffi che mi colpisce personalmente aveva colpito meno coloro che erano invece più di me in grado di cogliere la bravura o no. E non gli pareva così tanta, se ho capito bene, del pittore in quanto tale. Può darsi che invece io abbia dei pregiudizi favorevoli e che Nievo sia più bravo come scrittore di quanto Caffi sia bravo come pittore. Io ci metterò il punto interrogativo, speranzoso che qualche critico d'arte venga a soccorso nei prossimi anni a dire che in realtà Ippolito Caffi, benché morto giovane, abbia inventato un sacco di cose, anche se non ha lavorato a Montmartre. Allora c'è questo altro Ippolito che ci serve come esempio di questo approccio iniziale, questo Ippolito 1809-1866. E ho accennato a questa visione critica che a me sembra tendenzialmente interna a una endogamia critica. Soprattutto la critica formalista vale anche per gli scrittori, per la letteratura e non soltanto per la pittura. In decenni vicino a noi, se non immediatamente oggi, ha lavorato molto su questa filiazione tutta interna ai testi, dai testi a un altro testo e via così. Chiaro che invece se io ritengo di parlare di questi argomenti è perché sono sicuro che il contesto centri con i testi e che il contesto complessivo, la società, sia un'espressione dei testi e i testi a loro volta recchino dentro di sé l'espressione del contesto. Io sono per questa dialettica viva, ma l'ho imparato a De Santis. Di nuovo si ritorna a lui. Non uno, dicono gli specialisti dei giudizi specifici, De Santis viene constratto ancora valido relativamente ai singoli scrittori. Non mi preoccupo e in alcuni casi so che è proprio così. D'accordo? Non è questo il punto. perché è la ricostruzione complessiva della storia d'Italia che si è fatta e ha preso coscienza di sé per via letteraria quello che ci ha dato il De Santis nella sua storia e letteratura. Mi ricordo, fra le altre cose, oltre che essere andato sulle barricate con i suoi studenti, è stato anche ministro della pubblica istruzione dopo aver fatto tutti gli anni di esilio che erano comportati dall'epoca il De Santis. Non c'è mica solo Nievo, non voglio mica riferirmi sempre a quel riferimento. Allora sì, nel Caffi c'è il volontario ma c'è anche il cronista, cronista con la penna, con i colori, con la matita, compartecipe e attore e coautore di un racconto visivo. Ecco, è quel racconto visivo che sta chiuso delle casse del Museo del Risorgimento chiuso alle decennie. Quello è il racconto visivo che i disegnatori e i pittori di cui Caffi è un'espressione, Querena è un'altra, ma ci sono altri. Il Museo del Risorgimento di Venezia finché c'è stato, adesso sta in quelle casse maledette per colpa di Sissi, come vi ho raccontato. Ma Sissi è soltanto l'usufruttuale, in fondo non è colpa sua, è colpa di chi l'ha sostituita al Museo del Risorgimento. Chiaro che tutti quei documenti, quei testi, ci sono, non è che sia stati... Sono tolte la nostra visione, certo, qualche funzionario se li può godere andando a scartabellare nelle cartelle e guardando negli armadi e nei cassetti giusti, ho capito. Ma è la storia di Venezia nel 1948-1949? Com'è che Venezia è diventata la grande mendica? Anche chiudendo nelle casse è il proprio risorgimento. Cioè, nascondendolo, ho capito, era il repubblicano, poi ha vinto la monarchia, era un risorgimento che era meglio nascondere che esibire. Su questa faccenda della Venezia mendica, che è una frase fatta nell'inizio della seconda metà dell'Ottocento, torneremo più avanti. È un'espressione che in qualche modo può tornare utile proprio oggi, non per assumere naturalmente, ma per vederla come una sponda al negativo rispetto a cui bisogna rimontare, e rispetto a cui questo seminario anche è stato pensato. Ma quale Venezia mendica? Eppure, questa faccenda della Venezia mendica, se voi leggete un sacco di cose del 1860-70, dopo il 66, i primi anni, i primi decenni, eccetera, l'idea che circola nella penisola è quella di una vecchia città decaduta e misera, con il cappello in mano che un salto in avanti. Adesso dico una cosa terribile. Attenti, eh, tenetevi. E la legge speciale? Non è che sotto, sotto, la legge speciale... Oddio, tutte le motivazioni sono buone per avere i schei. Chiaro, ne servono tanti. Sì, tutte le motivazioni sono buone e io mi guardo dal dire avete fatto male a... Però sotto, sotto, non finisce per essere confermata l'idea che questa città speciale non basta a se stessa. Non basta a se stessa? Ah, certo, perché non ci sono mai state le fabbriche, perché nell'Ottocento non è successo nulla, non è avvenuto nulla, Marghera naturalmente non c'è, Mestre è un'altra cosa, Lido, che se ne vede, eh, vabbè, certo, certo. Allora se c'è solo l'apparazzo d'Uccale e la Cadoro, la monocultura turistica, ma, sarà, mi sa tanto di frase fatta, oggi, e in altri momenti ancora di più. Ma questo era un viottolo e riprendiamo la via maestra. concludo su Caffi dicendo che non è che Caffi che il pittore non stia sul mercato. Da quella mostra, da quel catalogo, viene fuori che se ne inventa letteralmente tutto, compreso salire in una mongolfiera per guardare il mondo dall'alto e cambiare quindi la prospettiva pittorica. questo non avviene a Venezia perché lui si muove molto, va molto in giro, c'è molta Roma nella produzione di Caffi nella sua esperienza, c'è anche l'Oriente. Insomma, c'è un uomo che non sta certo chiuso a Belluno dove era nato e neppure a Venezia. Allora, non è che non stia sul mercato, non è mica che l'artista per essere originale e cercare la sua strada e i suoi specifici non debba anche preoccuparsi delle interrazioni che si possono dare in un dato contesto. Allora, è chiaro che oltre che documentari e il risorgimento di cui era in loco un protagonista, contemporaneamente questo tipo di immagini potevano aprirle un mercato. Caffi diventa uno specialista nel rappresentare esplosioni, specie notturne. Cos'è questo? È documentazione o è suscettibile di diventare anche mercato? Certo, è una variante originale rispetto alle vedute. Canaletto non aveva rappresentato questa Venezia. Siccome tante poi, fino ai pittori in riva ancora oggi, dipendono tutto sommato da queste filiazioni sempre più micro di Canaletto o di Bellotto, allora ecco che Caffi ci aggiunge qualcosa di altro. Si possono magari vedere, in questi sfondi si può vedere il Palazzo Ducale, però un Palazzo Ducale notturno è con queste esplosioni, queste illuminazioni, questi flash. Beh, mica male. se poi piace riesce pure a vendere, viva, meglio per lui. Questo fa parte comunque dell'uomo e della professionalità capace di ripensarsi. E questo è un primo capitolo, proseguo, dicendo città di polarizzazione, Venezia, è costretta a stare in tensione diciamo fra accademia e avanguardia. Quando dico accademia, certo mi riferisco all'accademia di belle arti, all'edificio, al luogo che sappiamo e alla storia su cui torno tra un momento, ma anche alle ragioni per cui la parola accademia ha assunto il significato che sappiamo in senso non positivo, nel senso della ripetizione, della mancanza di slancio, di originalità, ma non è che sia tutta qui l'accademia e tantomeno è tutta qui l'accademia di belle arti di Cicognara, ve lo ricordo, che nasce come funzionario napoleonico, sopravvive come funzionario austriaco, non è che succeda a tantissimi di riuscire ad affermarsi, certo sarà stato anche abile a destreggiarsi, è possibile che la chiave del trasformismo non sia fuori luogo, ma è anche possibile ed è dimostrato che si tratti anche di un abile tecnico, di un abile funzionario culturale capace di farsi apprezzare da diversi governi e di diventare che cosa? Di diventare funzionario, io direi, utilizzando una mia dicotomia che è nata in rapporto al fascismo, io direi che sia il Cicognara sia un intellettuale funzionario sia contemporaneamente un intellettuale militante, militante di che? Militante di Venezia? Siamo nel primo decennio dell'Ottocento e nel secondo lui si dimette sdegnosamente dall'Accademia alla metà, nel 26, alla metà degli anni 20, non le manda a dire tanto è deluso di come stanno andando le cose, ma insomma forse potrebbe in una certa misura essere quel veneziano di Nievo in marcia verso l'italiano? Certo non con il calore di un Nievo, Cicognara non è un Nievo, forse la sua militanza si riferisce all'altezza della riuscita professionale degli artisti delle sue covate poiché l'Accademia, la sua Accademia, l'Accademia di cui è presidente in Cicognara è contemporaneamente scuola, museo, mostra artistica e imprenditoria artistica, è tutt'altro quindi che solo tutela e custodia di quello che già c'è e che viene dal passato, che sarebbe il lato che produce la parola accademico in un senso negativo, ma mentre mi dice questa Accademia qui di Cicognara, proposto di Cicognara, lui viene da Ferrara, e perché lo sottolineo? perché cento anni dopo un altro grande organizzatore artistico di Venezia, Nino Barbantini, anche lui, vince a 22 anni il concorso che il comune di Venezia fa per avere uno che metta in piedi sostanzialmente ciò che sta tra la bevilacqua e la masa e Capesaro. Barbantini non si limiterà affatto a fare il custode anche lui, è quello che si inventa la secessione, ma poi ci veniamo alla secessione rispetto alla biennale, siamo cent'anni dopo, torniamo indietro. Torniamo allora a questo Ferrarese di cento anni prima, ancora voglio darvi dei riferimenti per questa dialettica, per queste polarizzazioni tra cui mi pare che Venezia anche nel campo dell'arte degli artisti si collochi. Potremmo dire tra Antonio Canova e Arturo Martini ho scelto due grandi riferimenti nella scultura. Ma perché noi siamo portati a vedere in Canova il classico, il classicista, spingendolo in qualche modo noi verso il passato, ma se siamo nei decenni in cui vive e agisce lui, lui è dentro un dibattito tra classici romantici. Vabbè, vi ricordate le nostre interrogazioni di arte, di letteratura, eccetera, ma questo è il classico romantico per un verso o per l'altro, Foscolo cos'è? È il classico romantico, l'uomo è romantico, è il classico, ma con le grazie e il sepolchi sarebbe classico. E vabbè, e comunque è certo che Canova sta dentro un dibattito delle forme, per cui ripensato e rimandato nel suo luogo e nel suo tempo è molto più moderno e avanzato avanzante di quanto non ci possa parire confondendo le sue statue classiciste con le statue di diversi secoli prima. E in ogni caso è un fenomeno europeo e proprio in questi nostri anni Canova è in pieno e grandissimo ricupero. Ed eccone uno e siamo sempre nei decenni peggiori perché siamo negli anni dieci negli anni venti negli anni decenni famosi della crisi da cui stiamo cercando di tirare fuori la città però c'è Canova e naturalmente dietro a Canova c'è Cicognara che lo sospinge è la bandiera dell'accademia però Canova è anche l'uomo ormai riuscito l'artista ormai grande sia come età sia come successo per cui Cicognara da Venezia gli raccomanda i suoi giovani una borsa di studio qua un laboratorio la visione di un'opera un contatto eccetera a Roma a Roma in modo particolare e allora che sto pensando altra espressione della polarizzazione potrebbe essere questo Venezia che sta in tensione tra Francesco Hayez è figlio di un francese e di una veneziana ecco perché ha questo cognome anche lui ha goduto negli ultimi anni di mostre e di cataloghi allora la polarizzazione come me la immagino tra Hayez e Vedova scelgo scelgo dei termini di comparabile altezza qualitativa e che ci dica con un nome così con un nome puramente semplificativo comunque l'altezza a cui ci si muove poi ognuno va per conto suo non sto facendo nessun avvicinamento da altri punti di vista sto proprio mostrando questo stare in tensione tra polarità e quindi cose diverse nessuna similitudine non vorrei che fosse presente qualche collega qualche critico storico e artice neanche è matto forse è matto ma non in questo caso specifico ci ritorno su tutti e due i pittori e in parte anche sugli scultori ma prima voglio dire memoria le risorse della memoria ma certo nei decenni di cui stiamo parlando in questi decenni rifondativi potremmo dire così dopo una Venezia caduta nel caso migliore ci troviamo di fronte a una Venezia in fase ricostituente di ipotetica risurrezione stiamo cercando di capire se c'è stato o no ma che fosse caduta l'abbiamo capito allora c'è chi vuol far capitare della caduta e non muoversi più e lo sappiamo la morte a Venezia la morte di Venezia noi stiamo cercando di verificare se ci sono state altre strade e nei vari campi io sto sostenendo che sì oggi lo vorrei sostenere attraverso questa strada qui anche nel campo dell'arte e anche nei decenni peggiori sì ci sono manifestazioni di vitalità a livello tutt'altro che minore provinciale Canova Hayez certo si potrebbe dire d'accordo Hayez nasce a Venezia figlio di un francese di una muranese se ben ricordo dove è nata la madre però lo stesso Cicognara lo indirizza verso Roma e che male c'è non vi sto mica parlando di Venezia come di un buco chiuso in se stessa va benissimo io nacco in veneziano e morrò italiano va benissimo allora Roma c'è nella giovinezza che impara di Hayez e poi c'è tanto a Milano c'è tanto a Milano e infatti ecco una citazione che inserisco a questo punto dal catalogo Francesco Hayez dal catalogo della mostra padovana dal mito al bacio a cura di Fernando Mazzocca dal saggio introdutivo dello stesso ex collega Mazzocca leggo quello che dice ecco Leopoldo Cicognara nel 1812 quindi stiamo retrocedendo negli anni negli anni peggiori possibili per Venezia è già presidente perché lo è da qualche anno dell'Accademia di Venezia e scrive all'amico Canova all'amico Canova cui aveva affidato a Roma il giovane Hayez e come glielo presenta è la grande speranza per la pittura parole di Cicognara oh per Dio che avremo anche un pittore ma bisogna tenerlo a Roma ancora qualche tempo e io farò di tutto perché vi rimanga avremo anche un pittore questo vuol dire lo scultore ce l'abbiamo già sei tu o Canova avremo ci si può chiedere noi chi qui effettivamente nel 1812 ci si può chiedere non sono più i veneziani una volta ci si può immaginare sono i veneziani che stanno diventando italiani sono i veneziani che stanno tra francesi e austriaci sono gli amanti dell'arte gli organizzatori culturali lascio aperto questo interrogativo ma cito nella stessa pagina di Mazzocca un'altra citazione che viene da Camillo Boito non Arrigo suo fratello Camillo l'architetto importante all'epoca bene è una citazione del 1877 nel 77 il vecchio Hayez è ancora vivo perché muore come Garibaldi nell'82 ed è sempre stato a Milano è nato a Venezia primi anni a Venezia Roma Milano e che dice perché è interessante quello che dice dice così Boito il più venerando pittore d'Italia è veneziano siamo nel 1877 e ormai Venezia e il vento fanno parte dell'Italia dopo dieci anni passati a Roma dopo mezzo secolo passato a Milano parla ancora il dialetto della sua Venezia mischiato appena con qualche parola italiana e lombarda nel 1813 Antonio Canova scriveva da Roma al Cicognara quindi vedete era tutto un do to des lodando quel pensionato dell'Accademia Veneta aveva avuto dunque questa borsa per farsi le ossa a Roma nel vivo dell'archeologia riscoperta dai classicisti in una sala della Pinacoteca di Brera stanno di contro due quadri assai belli una certa lontana di fratellanza l'uno porta la data del 12 l'altro la data del 67 tutti e due portano gli stessi nomi sono 60 anni che questo pittore entra nello studio ogni di quando il sole si alza e ne esce col sole che tramonta altissima professionalità evidentemente e che tipo di quadri dipinge questo Hayez negli anni che ci interessano in questo momento diciamo gli anni 20 30 quadri storici quadroni storici a me non piacciono affatto ma questi sono affari miei ci interessa che in questo momento proprio la storia sia convocata da molti in Italia come legittimazione di quello che poi si chiamerà il risorgimento e Hayez quindi per quanto nel dibattito tra classici romantici lo possiamo spingere in direzione al romanticismo lui mentre Canova lo possiamo spingere in direzione al classicismo comunque sia tutti e due stanno dentro questa discussione in corso e il portato specifico di Hayez sono queste grandi visioni pittoriche vi ricordo che anche un ministro di casa Savoia e un patriota del calibro di Massimo D'Azeglio è tutte e due le cose anzi tutte e tre è politico è scrittore ed è pittore e come scrittore è scrittore di romanzi storici e quindi i dipinti di Hayez sono dei romanzi storici fatti col pennello e sono in fondo non aveva detto Foscolo già ai tempi dei sepolcri e ai tempi della sua prolusione all'Università di Pavia o italiani io vi esorto alle storie c'è un presente e non ce l'avete avete un passato grandioso abbeveratevi a questo detto questo riconosciuto la grandezza del patrimonio a disposizione si poteva campare del patrimonio è certo e più lo riconosciamo grande e figurarsi a Venezia più Tintoretto più Tiziano c'è e avanti così più si poteva campare di rendita e questa era una delle opzioni possibili ed è quella in fondo verso cui i molti comitati internazionali benissimo intenzionati spingono e continuano a spingere Venezia occupatevi di custodire il vostro passato e guardatevi dal bruttarlo con cose del presente che naturalmente bisogna decidere caso per caso se non si accetti quell'idea della custodia vigile e memore bisogna decidere caso per caso quale componenti del presente siano accoglibili e quali no per non rovinare la custodia perché qui stiamo parlando di terza via non stiamo scegliendo tra la vigile custodia che ignora tutto dopo 1397 e un atteggiamento presentista distruttivo e ignaro del patrimonio il problema è il soldo la terza via quante volte anche politicamente si è cercata la terza via e vabbè che ovviamente non è equiparabile e confondibile con la famigerata espressione in medio stat virtus spero niente bisogna naturalmente trarre dai due estremi tutto quello che si può ma non è che poi si possa mescolare facendo una una banale sintesi tratterebbe di una sintesi estremamente difficoltosa da raggiungere di cui possiamo pensare vedremo a quali traguardi arriveremo al termine di questi 15 incontri possiamo pensare che nei periodi migliori non dico per 200 e più anni ma nei periodi migliori una sana dialettica sia stata trovata tra la vigile custodia il rispetto della memoria del passato e nuove espressioni del vivere oggi e non l'altro chiede resto ancora un momento a muovermi tra questi personaggi perché quando muore Canova e siamo nel 1822 Cicognara ci costruisce tutto un discorso civico facendo appunto l'intellettuale militante nel senso della storia della cultura a cui prima facevo riferimento il funerale non avviene in una chiesa patriarca si arrabbia pazienza dice Cicognara il funerale avviene in accademia è un funerale laico di un personaggio che parla che ha agito nell'ambito della società degli uomini e in quel momento e non è finita in particolare della costruzione dell'allestimento e teatro in quel momento l'assunta di Tiziano è lì è all'accademia e Cicognara ha cura di far svolgere queste esegue particolarissime nella stessa sala per cui la bara di Canova e l'assunta di Tiziano si fronteggiano chi conosce la basilica dei frari sa che questo avviene anche per le tombe dei due grandi personaggi quindi Cicognara ha voluto mettere in scena nel 1822 un dialogo trapassato e presente ai più alti livelli e naturalmente ha voluto dire il Canova il nostro Canova l'oggi l'oggi dell'arte dialoga con Tiziano e questo è sempre una delle cose più difficili sapere riconoscere l'altezza del presente rischiare nella lettura del presente delle messe in rapporto con un passato ormai selezionato dal passare del tempo evidentemente lui si la sente di rischiare Cicognara sto ancora leggendo Fernando Mazzocca Cicognara da un altro libro vincendo l'opposizione del patriarca dovrebbe essere l'ungherese Pircher in questo momento volle fortemente questi funerali laici celebrati il 16 ottobre 1822 evento memorabile che vide riunito sotto la bandiera dell'arte tutto il popolo veneziano in un'occasione dimostrativa dell'orgoglio nazionale rimasta pressoché ineguagliata fino alle gloriose giornate del 1848 l'arte e gli artisti e la cittadinanza anche attraverso l'arte io non so dire in quale misura Cicognara abbia usato Canova questo comunque è il discorso quante volte si fanno discorsi civili con i funerali lo fanno tutti anche con i funerali di ognuno di noi i funerali religiosi dei non credenti sono discorso civico che ogni giorno viene fatto in tutte le chiese e non conta meno di un discorso per un grande come questo perché in chiave di storia sociale dimostra è chiaro la sedimentazione a livello di costume per tutti e per tutte ma le rivoluzioni spesso vengono dall'alto ecco ecco una qui la rivoluzione naturalmente in una certa dimensione evento memorabile videoriunito sotto la maniera dell'arte tutto il popolo veneziano un'occasione dimostrativa dell'orgoglio nazionale rimasta pressoché ineguagliata fino alle gloriosi giornate del 1848 ricorda il biografo Malamani come fu proprio lui il biografo di Cicognara ad avere il coraggio di porsi a capo della resistenza al veto patriarcale questo biografo Malamani dice perché infine la salma del grande artista non apparteneva al patriarca ed egli per primo Cicognara per primo si caricò del caro peso e i professori ne seguirono l'esempio e in breve la bara di Canova e l'assunta di Tiziano si guardarono come oggi i monumenti Tiziano di Canova si guardano nel Tempio dei Frari insomma siamo noi 1822 e questo è un discorso nuovo che avanza un discorso nuovo che avanza tesaurizzando anche l'antico Canova lo ha fatto da scultore e Cicognara lo fa rispetto alla grande pittura rinascimentale quella di cui Ruskin pensava così male perché la grande pittura finiva con i bellini diceva stiamo guardando che ora abbiamo fatto se posso regalarvi o no una citazione su Caffi ma sì dai togliamo qualcosa che viene dopo che ha la colpa di venire dopo siamo sulla nave nei giorni di Lissa Lissa porta nera da tutti i punti di vista e anche da questo punto di vista di far perdere questo pittore che avrebbe potuto fare ancora molto Caffi scrive un'amara lettera all'amico Antonio Pavan per te virgolette l'intero equipaggio della flotta italiana e quasi tutta l'ufficialità specialmente veneta sono animatissimi e sentono il bisogno di battersi da leoni contro la squadra nemica i capi sono senza testa e vilissimi e tutte le prove vilissimi a tutte le prove pochi giorni ancora di incertezza basteranno per demoralizzare definitivamente questa spettacolosa e terribile flotta ricordo che la flotta italiana era più grande della flotta austriaca perdonami mio ottimo amico se ti scrivo queste dolorose parole ma io sono così afflitto così scoraggiato che le lacrime mi cadono dagli occhi mentre sto vergando questo foglio questa è la pura storia e te lo prova che non hanno il coraggio di allontanarsi dalla rada di Ancona che è poca Emilia anche dopo lo schiaffo che hanno ricevuto dall'ammiraglio austriaco a tiro di cannone sotto Ancona sebbene io abbia fatto molte memorie che occorrono per l'arte mia aspettando qualche solenne spettacolo per tradurle sulla tela ecco i suoi appunti pittorici dunque gli schizzi i disegni preparatori se le cose procedono così non volendo dividere la vergogna altrui io me ne vado altrove e così è stato allora l'interrogativo di qualche minuto fa era memoria risorse e memorie sì ma vivere il patrimonio è un'opzione non necessariamente rinunciataria tale essendo il lascito del passato nel caso di Venezia naturalmente ma insomma la cura del presente la cura del passato scusate è immanente è necessaria è necessario fare museo della propria storia coltivare la propria memoria ok ok non c'è minima riserva mentale mentre ve ne parlo ma capite che sta avvenendo subito un grosso ma dopo questo ok ma Canova è al centro del dibattito culturale ma Cicognara manda avanti Canova in scultura e Aiez in pittura per stare dentro il grande dibattito europeo da classici romantici con la continuità che gli viene da anni e anni di ruolo dirigente all'accademia che ha appunto questa molteplicità di ruoli in cui lui può esercitarsi da capo per anni e anni fino a quando rompe e le parole che dice dei professori che restano sono amarissime e sprezzantissime alla metà degli anni venti basta il resto su questi personaggi ve l'ho già detto passiamo un altro capitolo che comincia da questa frase qui profondamente connesso a quello che ho appena detto peraltro perché è questa fare rendere la storia fare rendere la storia posso dirlo pericolosamente vicino a certe idee su come dovrebbero funzionare oggi i musei è certo che siamo su un filo fare rendere la storia intanto io qui sto dicendo la storia non sto dicendo le opere d'arte che stanno nei musei è un rapporto con il passato farlo rendere la rendita può essere di vari tipi quella un po' parassitaria di cui parlavo poco fa ma è una rendita anche quello che poi politicamente prenderà il nome di risorgimento anche questo è un modo per far rendere la storia addirittura Roma antica nonché secoli più vicini ai comuni eccetera eccetera fare rendere la storia ma qui oggi ci serve di più non fare il discorso politico relativo al risorgimento ma fare il discorso relativo alle arti al rapporto tra passato e presente delle arti sia dal punto di vista degli operatori nel senso degli artisti che essi stessi devono produrre quadri o statue sia dal punto di vista di tutti gli operatori gli organizzatori artistico-culturali che stanno intorno a un pittore a uno scultore a un musicista parlerò poco oggi della musica ma non è che sia secondario il ruolo del teatro della Fenice e di altri teatri nel corso dei decenni di cui stiamo parlando nella storia dell'opera nella storia del melodramma che è tanta parte della storia culturale italiana ottocentesca Venezia ha le prime parti e non le terze parti la Fenice quindi si illustra non solamente perché brucia e viene rifatta in trentici mesi ma anche perché è un luogo canonico delle prime di Verdi e di tutta una serie di altri grandi autori allora voglio entrare in un capitolo che è anche crologicamente successivo oltre che per i fatti che vi avvengono dicendo fare rendere una storia e vorrei suggerirvi di intendere questa espressione come un modo per riferirci anche a Riccardo Selvatico Selvatico che era costuno come che era costuno Selvatico era il cacciare di allora è chiaro è chiaro che è così è chiaro mutato l'area disciplinare perché lui era un poeta l'abbiamo nominato per quella poesia sulle tabacchine vi ricordate? bene a questo punto però stiamo per incontrare il sindaco Riccardo Selvatico stiamo per incontrare il centro-sinistra non voglio essere anacronistico lo so che il centro-sinistra non c'entra è che non ci sono nel 1890-95 i partiti politici che ci saranno all'epoca del centro-sinistra però c'è una borghesia liberale liberale democratica c'è una borghesia progressista e c'è una borghesia conservatrice ci sono ormai delle fabbriche e lo sappiamo e ci sono quindi dei proletari ci sono divisioni non piccole di orientamento la nascita della giunta selvatico che così per intenderci io ho definito di centro-sinistra nel 1890 è tutt'altro per chi ha studiato specificamente quegli anni e quelle dinamiche è tutt'altro che il frutto di un movimento possente che non poteva non portare a quell'esito ci sono anche degli elementi di casualità nel fondo sono 4 8 12 non molti più gatti che si ripresentano continuamente nelle giunte comunali di questi primi decenni di Venezia Unitaria non è che dietro ci sia tutto questo movimento sociale politico per quanto riguarda il liberalismo la democrazia la camera di lavoro nasce nel 92 e tra le cose nuove che fa la giunta selvatico è proprio di aiutarla a nascere dando un sussidio dando una sede cosa scandalosa ma cosa scandalosa per l'altra parte della borghesia è quella che tra poco farà vincere Grimani mobilità tra chi ma dal patriarca e da chi altro dalla gazzetta di Venezia cioè il quotidiano governativo per tutti i governi austriaca in precedenza e poi italiano in Italia eccetera eccetera e beh è quella che diretta la ferruccio Macola a questo ho già fatto riferimento alle tragedie della storia Macola è quello che uccide in duello Felice Cavallotti e Macola che ha approdato a posizione di destra ed è il direttore della gazzetta di Venezia era nato nei paraggi di Cavallotti e in una certa misura si poteva considerare un discepolo politico dei Cavallotti tra tanti che negli anni 70-80-90 si possono considerare discepoli di questo capo del radicalismo della democrazia garibaldina non è uno dei mille ma è un garibaldino delle ondate successive Cavallotti un retore un retore secondo le retoriche del tempo le retoriche della massoneria della democrazia del radicalismo del garibaldinismo i duelli fanno parte naturalmente di questi linguaggi della violenza ritualizzata non sono sbaglio a ricordare del trentanovesimo quello in cui Macola lo infilza di solito non si moriva e non si ammazzava è stata anche una sfortuna e siccome più di una volta mi è capitato di nominare una signora e poi lasciarla lì in attesa degli eventi rinomino Maria Damerini perché ricordo lo scandalo con cui tanti anni dopo mi raccontava ma certo aveva raccontato a infiniti altri che la sinistra rabbiosa per avere perduto in duello il suo capo voleva vendicarsi con macula anche se il duello era stato un duello regolare in cui si poteva vincere si poteva perdere e si era a rischio di venire ammazzati non gliel'hanno mai perdonato l'hanno fatto uscire pazzo pare che Macolo sia alla fine morto in manicomio e vabbè si sarà vergognato di sé forse avrà ripensato la sua visovinezza non so non ho approfondito le peripezie di Macolo ma per dire insomma oltre mezzo secolo dopo una signora benestante il cui marito era il direttore della Gazzetta di Venezia e dunque chiaramente profondamente legato a questa storia del giornale e della direzione del giornale ancora ricordava questo scontro come uno scontro epocale che non aveva riguardato soltanto il duello occasionale come tanti altri duelli di due singoli ma uno scontro politico con morti e feriti e non solo dalla parte del morto immediato ma anche di questo morto politico e morto poi a distanza qualche anno dopo come appunto il Macola allora il patriarca Macola Grimani toglieranno immediatamente ciò che era stato dato al sindacato dal centro-sinistra e lo si può capire però non eliminano la scelta più grossa l'esposizione che noi nominiamo sempre come biennale perché prende subito questo ritmo che avviene ogni due anni la biennale l'esposizione d'arte questo è il grande pensiero azione di selvatico allora anche su questo come al solito la dialettica del fare e dei crepuscoli che invadono l'anima di Venezia e dei veneziani in maniera immanente ha fatto sì che anche questa grande invenzione durevole perché la biennale c'è ancora internazionale perché nasce internazionale e rimane sempre più internazionale eppure le varie ricostruzioni storiografiche che ci sono state via via la visione complessiva l'ottica a cui è consegnata la nascita della biennale e le prime biennale tra l'8 e l'900 ricorda sempre che dietro chi c'è cosa c'è c'è il caffè Florian c'è il gruppettino di senatori attorno a Selvatico di cui il più vispo il più giovanile probabilmente era proprio Selvatico ma il suo amico che diventa segretario della biennale è Antonio Fradeletto che lo resterà anche con Grimani allora vabbè Fradeletto era un radicale e si sa sto parlando ovviamente dei radicali di allora quante cose possono venire fuori dalla calassia radicale di tutto o di più e Fradeletto quindi di tutto e di più farà nella sua lunga vita non solamente relativamente alle scelte per la biennale ma anche relativamente alle scelte politiche per esempio rispetto alla grande guerra Fradeletto però insomma il fatto che l'uomo forte significativo sia lo stesso prima e dopo ci dice anche le contiguità le forme di continuità e non solo di discontinuità che ci sono nella storia di Venezia degli anni 90 e del primo decennio del secolo e che possiamo raccontare anche attraverso il racconto della biennale e chi erano allora me le ricordo sono nomi di pittori di valore cari alla memoria di ogni veneziano ma che nel nel luogo comune con cui ci si rapporta la natura e la biennale vengono immediatamente schiacciati dal confronto con i francesi favretto fra giacomo melesi nono ben si intende sto parlando di luigi nono i tre ciardi guglielmo e i suoi due figli tanti anni fa frequentavo qui un pittore spazialista che aveva una parola distruttiva che si estendeva anche a questi grandi nomi ma che partiva dai pittori in riva degli schiavoni o altrove sì sì paesaggitti diceva solo questa parola una parola evidentemente che tagliava corto con qualunque possibilità di prendere il sussergio non è giusto non è vero relativamente a un favretto nono fra giacomo però è chiaro che messi insieme in questa seconda metà dell'ottocento occupano il campo il gusto il mercato le commissioni i gruppi che scelgono e funzionano da freno rispetto alle scelte di un'esposizione che pure è nata non come veneziana e neanche come italiana ma come internazionale però la commissione i tecnici sono loro quindi finché i tecnici almeno vengono ricercati o nella misura in cui vengano ricercati in città è facile che ci sia dentro qualche uno di loro che questo non sia un acceleratore rispetto a una scelta che però è già avvenuta è la scelta di fare le esposizioni che è l'acceleratore e che non è semplicemente vigile e custodia dei nostri bellini dei nostri eccetera eccetera non ci basta Cimera Conegliano viva Cimera Conegliano però vogliamo fare anche le esposizioni sì però poi c'è questo freno e allora ripensiamo un po' alla figura di Selvatico io trovo deliziose le sue operine teatrali però il freno non so se abbiate in mente i recini da festa e gli altri non ha scritto moltissimo certo se avesse fatto soltanto l'uomo di teatro se il suo nome fosse legato semplicemente a questo teatro sarebbe così un ultimo epigono minore di un Goldoni visto attraverso la visione scultora che ne dà Dal Zotto a San Bortolo avete presente? ecco ma non conoscete la strada di Goldoni in campo San Bortolo se che la conoscete benissimo e non è un affabile ciaccolone che sta lì a guardare a contemplare eccetera ed è esattamente la visione che manda in bestia chi manda in bestia vediamo se siete preparati eh? bravo molto bene Cacciari e Cesare De Michelis tutti e due insieme perché dicono Goldoni è un grande riformatore che capisce un sacco di cose del teatro e anche degli orientamenti della società e non per niente Goldoni parte da Venezia e se ne va in Francia e alla fine la sua pensione gli viene riconfermata dalla rivoluzione non ho mai trovato Cesare così rivoluzionario come in questa rivendicazione di Goldoni gli ha fatto bene insomma sto leggendo come vi ho detto tutti i suoi libri in queste settimane e devo dire che sono una rivelazione e ve li consiglio parecchi di questi e tra cui appunto c'è questa scoperta di Goldoni e questa arrabbiatura nei confronti di questa visione riduttiva limitativa affidata a uno degli scultori di fine ottocento che è Dal Zotto e che ha fatto è simpaticissima con la statua ma non c'è quella capacità di scavare nel presente attraverso il teatro che invece Cesare Michelis che come critico come storico del teatro e come editore c'era dietro all'edizione nazionale delle opere di Goldoni riconosce come grandezza del Goldoni ecco Selvatico invece fa le cose che Del Zotto attribuisce al suo Goldoni però Selvatico ha avuto questo colpo d'ala e il colpo d'ala è inventarsi l'esposizione e fare queste cose strane che sono quelle che nel giro di poco tempo vabbè poi lui è anche morto la prima esposizione lui riesce a fare il discorso inaugurale non riesce a chiuderlo che alla fine è già morto quindi diciamo che lo scontro tra il centro-sinistra e l'incipiente centro-destra che poi durerà 25 anni perché la giunta Grimani via via rifatta alle elezioni durerà così a lungo cioè fino al primo dopoguerra in fondo lo scontro diretto non c'è attraverso i personaggi principali perché Selvatico viene meno e non c'è un vice Selvatico sì ci sarebbe sul genere Bordiga altro personaggio notevole che attraverserà poi i decenni farà tante cose tra cui penserà all'istituto di architettura oltre che avere a che fare con molti dirigenti con l'Ateneo Veneto e così via Bordiga arriverà fino agli anni 20 o anche di più forse allora il discorso adesso lo posso rovesciare parlando di Selvatico avevo detto lui è capace di inventarsi il nuovo e però il freno ce l'ha dentro di sé e lo dimostra attraverso il suo teatro adesso rovescio il discorso e dico sì l'esposizione internazionale è tale e già questo basta farci dire che nasce a Venezia nasce mica a Roma o a Milano Hayez certo Hayez si sposta a Milano non ha trovato sufficiente vitalità a Venezia è vero ci sono queste cose ai tempi di Napoleone e dopo tante opere che Napoleone aveva fatto portare a Parigi tornano a Parigi ma molte che erano andate a Milano non tornano da Milano quindi è vero che benché noi stiamo rivendicando la vitalità di Venezia non è che non ci siano delle difficoltà e dei momenti in cui le cose non vanno bene il rapporto per esempio a Milano noi abbiamo visto che per la ferrovia è Venezia che tira e Milano che segue ma appunto dal punto di vista del mercato artistico sia Hayez che vedova cent'anni dopo a un certo punto scrivono ma qui a Venezia non compra niente nessuno e quindi possono cercare sfogo altrove detto questo la Biennale di per sé fa venire a Venezia opere dagli altri paesi dopodiché gli studiosi e gli specialisti ci dicono che vabbè Favretto Milesi e gli altri ci sono a Venezia ma non è che anche negli altri paesi non ci siano i loro Milesi non è che dappertutto ci siano sempre e solo gli impressionisti e le avanguardie del tempo tra fine ottocento e inizio novecento le avanguardie ci sono ma ci sono anche le traguardie per cui le selezioni che arrivano dall'estero possono anche essere tradizionaliste anche esse non è che in tutte le esposizioni ogni due anni ci sia l'esposizione italiana tradizionalista e tutte le altre esposizioni viceversa avanguardiste non è così semplice e naturalmente ognuna delle esposizioni andrebbe studiata di per sé i padiglioni crescono via via di numero strada facendo e ogni due anni le cose cambiano noi qui stiamo parlando con un discorso di sintesi che non può rispettare tutte le articolazioni del discorso come si dovrebbe ma insomma dall'interno di questa esposizione che è nuova perché esiste ma può essere in una certa misura tradizionalista nel come viene fatta esistere verso il 1910 12 ecco gli anticorpi la secessione è quella a cui facevo riferimento poco fa quando vi ho nominato Nino Barbantini allora vi ricordo la signora Bevilacqua la Masa la vedova e Garibaldina è quella che ha lasciato Capesaro al comune per appartamenti per dare da abitare ai ragazzi spiantati che vogliono diventare artisti e devono provare e devono e devono lavorare a fare gli artisti non essere presi dai altri lavori per poter pagare la pigione e allora c'è questo e poi c'è naturalmente via via che il comune riesce a onorare pienamente il lascito e tante volte ci vuole un bel po' di tempo rispetto a questi lasciti a queste eredità via via la Bevilacqua la Masa diventa anche non solo un strumento di aiuto finanziario logistico organizzativo per la vita dei giovani artisti ma anche un luogo di esposizione là appunto bevi l'acqua e la Masa c'è ancora con tutti i suoi alti e bassi nel corso dei tempi deve essere stato evidentemente all'inizio una cosa grossa e d'altra parte pensate a Capesaro va bene Barbantini diventa a 22 anni e poi la sua presenza in città durerà per decenni fino a seconda troppo guerra il responsabile e anche lui deve interpretare questo ruolo certo lui ha a che fare con l'arte che si viene facendo i giovani artisti dell'oggi quindi non può campare di rendita sul patrimonio il patrimonio lo deve costituire è un patrimonio dell'arte contemporanea la selezione non è quella che hanno già fatto i secoli due tre quattro cinquecento anni la selezione è quella che con il proprio gusto e nel dibattito culturale attuale rischiando si può e si deve fare allora dall'interno perciò delle istituzioni comunali perché lo sono tutte e tre viene sia il nuovissimo che il nuovo così così sia l'accelerazione l'interesse avanguardistico per la nuova pittura la nuova scultura tra i nomi salta fuori adesso Arturo Martini se parliamo di scultura nell'ambito della secessione di Capesaro e Rossi e tutta una serie di altri che poi vediamo qui la parola che si usa nei primi anni del novecento è diventata secessione che sembra non è proprio un doppione di avanguardia ma siamo nei paraggi secessione naturalmente sottolinea la rottura il momento della rottura in realtà non è che questi artisti siano sempre necessariamente esclusi dall'esposizione ai giardini o negli altri luoghi dove le prime biennale si svolgono ci sono anche altri momenti qualche volta sì qualche volta no ogni due anni le giurie di accettazione possono invitare o non invitare accettare o rifiutare questo o quel pittore quindi per quanto riguarda i singoli bisogna vedere caso per caso chi c'è chi non c'è a ogni biennale per quanto riguarda l'insieme certo c'è un insieme di gusto innovativo che trova più facilmente casa a Capesara sotto le ali Barbantini che non alla biennale sotto le ali Fradeletto però Venezia è tutte e due capite come la chiave di tutti questi incontri è ma c'è o non c'è vitalità a Venezia non è che la vitalità io la voglio porre soltanto dal punto di vista delle avanguardie negando che siano espressive anche le tradizioni ci mancherebbe in una città di Venezia mi gioco le tradizioni ma non mi so neanche di farlo non solo apro una parentesi poi torniamo a questo parliamo anche di politica io non intendo dir bene del centro-sinistra e selvatico dir male del centro-destra di Grimani me ne guardo bene me ne guardo bene perché il centro-destra di Grimani è ancora più avveniristico del centro-sinistra e selvatico ed è molto più durevole perché non dura meno di un quinquennio dura un venticinquennio ed è in grado di far interreagire ceti sociali e forze politiche che rimandano diciamo con etichette sommarie alla destra conservatrice di cui fa parte lo stesso sindaco e alla destra incipiente che si chiamerà nazionalismo e di cui sarà alla testa un altro grande nome Patrizio Piero Foscari e Gabriele D'Annunzio lo vogliamo mettere c'è o non c'è in questo blocco che si viene facendo c'è e non c'è c'è e non c'è perché se alla fine degli anni 90 nelle prime biennali c'è lo scandalo terrificante del dipinto di Grosso qualche d'uno naturalmente se lo ricorda insomma le donne nude cose terribili in questo quadro e il patriarca lo viene a sapere e allora c'è ancora selvatico perché siamo all'inizio rischia questa faccenda qui di un quadro che rappresenta ciò che di solito rimane a livello di modella nei lavori preparatori all'accademia e che rischia di franare sul nascere l'esposizione selvatico è abbastanza buon politico per comprenderlo forma una commissione cosa si fa in questi casi si forma una commissione ma questa commissione a differenza di molte altre lavora e produce un risultato e chi la presiede? Fogazzaro 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 naturalmente il grosso ha un successo enorme e tutti lo vogliono e allora viene organizzata una crociera perché lo vogliono anche nelle Americhe la c'è la provvidenza brucia brucia in viaggio e selvatico muore ma sui non voglio parlare di causa e di effetto no 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 io non intendo sostenere un rapporto di causa e di effetto e non c'è il fatto basta è così che sono andato le cose nel saggio sulle arti a cui facevo prima riferimento di Gian Domenico Romanelli nella storia di Venezia si può dire che alla fin fine in modo articolato mentre io adesso lo schematizzo Romanelli dica problematicamente bene della Biennale di queste prime Biennali a cavallo tra 8 e 900 pur con il freno di Fradeletto che comunque era un grande organizzatore pieno di relazioni perché si tratta di far mettere radici a una cosa appena nata quindi evidentemente aveva delle qualità e non soltanto dei gusti un po' retro allora dice problematicamente bene della Biennale ma ancora meglio dice di Capesaro in particolare quando arriva Barbantini a Venezia il giovanissimo Barbantini che anche per queste ragioni anagrafiche naturalmente può sollecitare medesimazioni più facili nei giovani artisti la secessione le avanguardie è anche una questione di ventenni che cercano la propria strada e che vedono come un blocco di potere lo è e lo è non è che non ci siano i blocchi di potere anche in senso culturale artistico universitario ci sono e così esistono i rottamandi quorum ego e i rottamatori conosciamo conosciamo queste meccaniche ma faccio un passo avanti rispetto a quello che dice Romanelli nel suo Balsaggio e cioè chi è il grande sponsor intellettuale di Barbantini come sempre perché le cose ci siano è bene o è addirittura necessario che ci sia anche una rispondenza io dico sempre nel racconto perché i fatti ci siano ci vuole raccontare i fatti in questo caso stiamo parlando di un dibattito artistico culturale colto nel suo farsi a bocce non ferme mentre il gioco è in corso e non ci sono ancora né vinti né vincitori e allora è importante come si schierano quegli organi della pubblica opinione che sono i giornali quotidiani le riviste e in particolare visto che stiamo parlando d'arte i critici d'arte Gino Damerini è la grande risorsa di Nino Barbantini che non è ancora Damerini caporedattore lo diventerà e poi direttore lo diventerà nel primo dopoguerra per vent'anni della gazzetta di Venezia ma ne è già il critico d'arte lui che sarà biografo ve l'ho già detto di Danunzio autore lui stesso di opere teatrali lui voleva essere uno scrittore non semplicemente un giornalista e lo era e voleva essere uno storico della cultura dicevo la volta scorsa anche dei giardini degli edifici di Venezia è il protagonista degli ultimi anni del leone il libro di memoria degli anni 30 della sua vedova Maria allora è il critico d'arte della gazzetta cioè del quotidiano del blocco che a capo Arsetti fa capo a Grimani cioè del centrodestra quel centrodestra che abbiamo visto nascere nel 95 da un'azione di antitesi nei confronti del troppo nuovo troppo diverso niente più religione nelle scuole elementari questa era una delle scelte di Selvatico e di Bordiga la normativa del tempo lo consentiva lui non ha fatto niente che violasse la normativa ricordatevi che il risorgimento nasce laico quanto è possibile che una cosa sia laica nel nostro paese laico massonico sacrilego senza incontro la chiesa quindi questa è una delle tante ricadute e naturalmente è la prima ragione perché Sarto il patriarca è il futuro pontifici naturalmente ma al momento è lui il patriarca si arrabbi è una grande battaglia e vi ricordo che Sarto è uno del gruppo dirigente del clerico in transfigentismo che è la linea della chiesa in quel momento lì vi ricordo che la linea è non expedit né eletti né elettori cioè stare fuori dalle contene dello Stato quindi questo interventismo viceversa sia pure sul piano amministrativo e non della politica nazionale è una cosa grossa di nuovo è una cosa grossa che avviene a Venezia ma a Venezia che cosa sta avvenendo e di cosa è parte lo stesso patriarca a Venezia c'è l'opera dei congressi l'abbiamo visto nel nostro incontro e l'opera dei congressi è diciamo è l'azione cattolica con il nome di allora e l'avvocato Paganuzzi è il capo di questa cosa che ha la sua capitale a Venezia allora proprio perché il blocco diciamo d'ordine integralista è così forte a Venezia proprio per questo non può accettare questa lacerazione che si sta producendo con la giunta selvatico cioè questa borghesia laicizzante progressista che si mette a proteggere il proletariato la sindacalizzazione delle masse che questo era il proteggere la camera del lavoro no un pezzo di classe dirigente borghese che trovava i suoi punti d'appoggio nel popolo che stava venendo avanti dal punto di vista economico sociale e politico quindi la scelta d'ordine la scelta conservatrice la scelta di rottura di questo movimento progressista è e non è regressiva perché in realtà anticipa gli eventi cioè avviene a Venezia qualche cosa che non può ancora avvenire altrove quindi Venezia è in quegli anni novanti avanti con il centro sinistra e ancora più avanti con il centrodestra e quando poi nel primo quindicennio del secolo cioè negli anni che vengono prima del fascismo vediamo che la destra tradizionale riesce a trovare modo per andare d'accordo per procedere con la destra nuova beh questo non era affatto scontato e mi pare di avervi già raccontato che cosa succede quando D'Annunzio con la gondola di Foscari arriva per regalare al sindaco il manoscritto del suo dramma veneziano La nave sì ma D'Annunzio non è fatto per piacere a Saccardo e alla difesa cioè il quotidiano del patriarcato D'Annunzio con i romanzi che scrive e con la vita che fa quindi D'Annunzio fa parte di questo blocco ma evidentemente questo blocco che si viene formando è complicato e comunque D'Annunzio sarà il centro del prossimo incontro e ne riparleremo quindi il nuovo è anche e proprio un nuovo di destra che sta fa Grimani Foscari e D'Annunzio dopo aver fatto fuori il centro-sinistra vi ricordo che Venezia è l'unico capoluogo in cui non ci sarà un'amministrazione di carattere popolare le amministrazioni bloccarde come si chiamano in cui i primi anni ai novecento che ci sono a Padova Verona Vicenza eccetera per varie ragioni tra cui che all'interno del partito socialista prevale la linea massimalista di Musatti per cui a ogni elezione non si sa come finiranno perché sono vicinissimi però alla fin fine Grimani la spunta ma questo avviene anche perché Musatti continua a prevalere su Florian o sugli altri socialisti riformisti che avrebbero preferito trovare accordi con chi? con i radicali con Fradeletto o con altri di quel tipo lì questo non avviene quindi mentre non si forma un blocco di sinistra o centro-sinistra a Venezia che si è formato negli altri città venete si forma ed è molto più forte robusto e durevole questo blocco di centro-destra che porta dentro di sé addirittura porzioni di futuro perché questa riviviscenza di Venezia si affida per ora al nome di D'Annunzio e arriverà a Fiume nel 19-20 l'impresa di Fiume ma poi anche il fascismo veneziano sarà questo fascismo qui il fascismo adriatico qua nei miei appunti addirittura schematizzando davvero troppo dico tutte le strade portano al fascismo adriatico e a una risorgente Venezia dei traffici e delle arti dei traffici e delle arti vi ricordo che Volpi e i suoi avevano cominciato a trafficare con l'oltre adriatico l'Albania il Montenegro i Balcani già prima della grande guerra Fiume non è che se lo pensi così il poeta fate nel 19-20 è già nelle corde di una serie di imprenditori capitalistici che senza l'autocoscienza naturalmente narrativa ideologica del poeta vanno comunque sulle orme della Serenissima Romanelli pensa molto bene proiettandosi avanti nel tempo e seguendo quello che è accaduto delle biennali nei decenni successivi del Novecento e addirittura del secondo dopo guerra Romanelli pensa bene e dice bene di Rodolfo Pallucchini che è il segretario del grande organizzatore della rinascita della biennale nel 1948 come al solito corro di più nella seconda ora che nella prima ma è fatale e quindi vabbè il Novecento ne soffre necessariamente però non è che non abbia già detto varie cose della biennale della Bibliacqua la Masa di Capesaro e tutto questo ormai sta ben dentro il Novecento tra le cose che abbiamo cercato di studiare negli ultimi decenni non solo in riferimento a Venezia ma in generale all'Italia c'è questa i rapporti tra fascismo e cultura cultura e fascismo Roberto Pobbio non ne voleva sapere diceva che dove c'è l'uno non c'è l'altra ma naturalmente sono cose vecchie e superate da decenni e d'altra parte la vita stessa dell'università di cui il giovane Pobbio faceva parte dimostra che la cultura italiana c'è stata anche tra le due guerre ovviamente declinata organizzata legittimata in maniere diverse dal fascismo che intendeva raccogliere matrici diverse e sperava pretendeva dichiarava di rappresentare ormai l'insieme l'assemblaggio complessivo di tutte le storie d'Italia ma un fascio e non per questo aveva deciso di chiamarsi così fascio sono i linguisti che per primi ci hanno invitato hanno invitato dalle storie settoriali vengono anche idee buone i linguisti ci hanno invitato a riflettere su questa cosa apparentemente banale che il fascismo si è voluto chiamare così fascio ma un fascio come una fascina non nasconde la pluralità dei legni dei percorsi che compongono la fascina anche se poi la fascina e il fascio stringe insieme il più possibile questi diversi percorsi però rimane un fascio certo nel 1914 15 quando ci sono i fasci interventisti prima che ci siano i 19 i fasci fasci i fasci fascisti la parola aveva già un passato che veniva dai fasci siciliani quindi aveva una connotazione di sinistra che andava benissimo non solo per confondere le acque ma per comunicare ai reduci da altri percorsi lo stesso Benito Mussolini era il primo di questi reduci naturalmente quindi non è che le cose vadano banalizzate i percorsi sono stati davvero molto complicati qui bisognerebbe seguire le biografie dei singoli artisti negli anni venti negli anni trenta è importante la cronologia quando uno nasce se uno nasce nel primo decennio del secolo che Italia liberale democratica e socialista volete che abbia fatto a tempo a conoscere se ha dieci anni quando il fascismo viene fondato e quelli che nascono intorno al 1910 sono i ventenni e le 1930 sono i famosi ragazzi dei GUF dei gruppi universitari fascisti Elio Vittorini che è già oltre i venti ma non molto oltre e quanti come lui e sto parlando in questo momento sto pensando agli scrittori a coloro che si esprimono con le parole è ancora più complicato esprimersi con i pennelli o con gli strumenti dello scultore o con gli strumenti le note gli strumenti della musica e non prestarsi a legittimazioni con menti interpretativi usi ed abusi dei regimi politici dell'ora come si fa a capire il senso politico di un dipinto beh certi non lo nascondono minimamente e anche alle biennali degli anni 30 ci sono opere d'arte che esibiscono il proprio essere fasciste ma altre no e allora quando ancora si supponeva appunto Bobbio per vari decenni ha diciamo sventolato la bandiera della assoluta incultura del fascismo per cui tutto ciò che era stato culturale era stato sostanzialmente fuori del fascismo ma queste visioni le abbiamo superate un modo per cercare una via di mezzo in fondo anche questo se vogliamo era una sorta di terza via in rapporto a Venezia e alla biennale e alle articolazioni ulteriori della biennale negli anni 30 che sono i festival i famosi festival del teatro della musica del cinema più famosa quella del cinema ma sono tutte invenzioni dei primi anni 30 segni naturalmente di fertilità del seme gettato a suo tempo da selvatico ma che ormai è di volpi e della cerchia volpiana è del fascismo veneziano quello che è del fascismo veneziano ha i suoi due uomini forti in volpi e in giuriati vince volpi vince volpi ma giuriati arriva ad essere anche segretario nazionale del partito fascista quindi comunque sono due bei galli nello stesso pollaio giuriati era stato l'uomo dell'interventismo adriatico degli istriani e dalmati dell'accordo politico con d'annunzio per fare l'impesa di fiume questo è giuriati giuriati no beh lasciamo all'incontro con d'annunzio la famosa crocifissione con i due ladroni giuriati è uno dei due ladroni vedremo quale dicevo per raccontare la cultura in particolare la Venezia e raccontare di tutti questi festival importanti il teatro nei campi queste invenzioni straordinarie vicinissime tra l'altro campo Santrovaso è uno dei campi più usati all'epoca ma girano di qua di là si usa anche il campo a fianco del teatro Gueldoni viene usato anche un campo alla Giudecca per fare ma non è già il neorealismo lo dicano gli storici del teatro ma insomma siamo ancora negli anni trenta e c'è questa idea comunque di uscire dalla sala teatrale andare fuori non posso approfondire questo neanche nei termini in cui lo potrei fare ma insomma c'è anche questo e ci sono anche grandi registi e grandi attori chiamati anche dall'estero passano pochi anni magari qualche due non la potrebbero chiamare più perché sopraggiunte le leggi razziste non potrebbero più chiamare che ne so Max Reinhardt ed altri sono le contraddizioni in seno al sistema qual è la formula che ho sulla punta della lingua e che adesso vi dico è quella di Venezia come punto franco della cultura ma che punto franco della cultura cultura italiana è il più alto livello tra le due guerre perché il fascismo non è la sentina d'ogni ignoranza e declina in senso autoritario colonialista imperialista razzista la cultura dell'epoca e chi non ci sta e per fortuna c'è chi non ci sta se ne va in esilio se ne va al confino o accetta di essere messo da un momento per l'altro in galera e chi ha salvato l'anima del popolo italiano naturalmente sono quelli che sono finiti alle isole o che sono venuti in Francia in Unione Sovietica negli Stati Uniti in Inghilterra o semplicemente in Svizzera e ci sono stati e sono stati a migliaia qui nella nostra università tante volte ne abbiamo parlato con molti dei presenti Silvio Trentin nel gennaio del 26 se ne va dalla cattedra che aveva H. Foscari sono tre in tutta Italia lui Salvemini e Nitti Salvemini a Firenze e Nitti l'ex presidente del consiglio a Roma che hanno il coraggio di andarsene nella università italiana perché intravedono quello che non c'è ancora perché non è il momento del giuramento il giuramento di fedeltà al fascino ma del 31 qui siamo le 25 e 26 ma c'è Gentile già dietro che pensa che nello stato etico un funzionario pubblico non possa non essere pienamente interno allo stato di cui è funzionario all'inizio del secolo quando Giolitti intravedeva in lui un possibile successore a distanza di anni Tancredi Galimberti e non sa ancora che suo figlio diventerà un capo della resistenza piemontese Duccio Galimberti diventa ministro delle poste spesso si comincia da lì qualche volta poi si continua si arena anche perché c'è uno scontro con Turati Giolitti che è la sinistra del Partito Liberale e i giolittiani cercano e trovano spesso un confronto positivo e un accordo con la destra del Partito Socialista cioè con Turati e Treves sì ma il ministro delle poste Galimberti vuole mettere in divisa i funzionari delle poste e non solo i portalettere come li riuscirà di fare ma tutti sono impiegati pubblici in fondo è già una strada che comincia ad allinearsi l'idea che il funzionario pubblico non può gli scioperi dei funzionari pubblici saranno i più male accolti nei primi anni nel secolo e poi nel primo dopoguerra perché sembra una contraddizione nel comportamento di uno che accetta di fare funzionare il pubblico e poi nega questo proprio modo di essere con i comportamenti abbiamo un quarto d'ora quindi non insisto allora su questo discorso relativo alla cultura fra le due guerre che non era previsto per questo incontro che ritroveremo un'altra volta ma siccome adesso volevo almeno arrivare a sfiorare secondo la guerra non andava bene attraversare ad un salto tutto ciò che precedeva senza dirne una parola quindi sappiamo che c'è un incontro specifico rispetto alla città di Volpi perché c'è la città di Volpi e quindi ritroveremo queste problematiche ma adesso andiamo oltre andiamo oltre e valichiamo il 43 44 45 e che incontriamo a questo punto tutta una serie di luoghi di punti di incontro e di personaggi che vivono il 45 e i mesi immediatamente successivi quindi proprio il 45 il 46 prima ancora che la Biennale risolga perché la prima Biennale quella è del 48 quindi anche questi anni che precedono il 48 vi ricordo che il 48 è così e la Biennale del 48 è così importante perché arriva Picasso Picasso non era ancora arrivato naturalmente questo serve a poter dire vedete l'ignoranza in precedenza sempre questo poteva partire anche prima del fascismo comunque Picasso così come altri ma comunque ma che segnali ci sono stati di ripresa è ognuno il suo e ognuno ha la sua maniera secondo le solite varie traiettorie della custodia gelosa del passato e allora subito l'Accademia e subito il Comune fanno grandi mostre con la grande pittura veneziana rinascimentale sia all'Accademia che il Comune a Palazzo Ducale subito Tintoretto Bellini dice benissimo benissimo è il patrimonio che risorge e all'Università di Padova intanto si è venuta formando una grande scuola storiografica che fa capo ad Achille Fiocco che vede i nomi di Sergio Bettini grande studiore di Venezia e dell'idea di Venezia in particolare Bettini è il maestro di Vadimino Dorigo in qualche misura anche un mio nonno e Rodolfo Palucchini che vi ho nominato poco fa come neosegretario c'è una brutta fotografia perché quello che stavo dicendo prima non è che nascano nel 45 rinascono qualche d'uno nel 45 e qualche d'uno quando rinasce ormai di anni ne ha 30 o 35 o magari anche di più e cosa ha fatto nel frattempo? Se è giovane ha fatto i litoriali se è giovane è stato nei guf se è un po' meno giovane era già in cattedra o stava brigando per arrivarci all'interno dell'università italiana così com'era l'università del giuramento certi stivali fascisti immortalati nelle fotografie si vorrebbe che non ci fossero ma ci sono la fotografia fa parte delle nostre fonti io non ne ho parlato più che tanto ma la storia della fotografia e dei fotografi della fotografia e dei fotografi a Venezia è una grande storia e non per niente anche Ca' Foscari terrà ben presente questo animando gli studi di storia della fotografia con diversi docenti di rilievo allora c'è una ripresa da parte delle istituzioni le istituzioni comunali che sono quelli che abbiamo già incontrato c'è il comune comune c'è la biennale che comunque fa capo al comune allora non è ancora diventata romana fa capo al comune c'è la beve l'acqua la masa c'è il capisaro gli uomini possono essere diversi le sensibilità anche per cui diciamo l'arco è lo stesso ma le frecce sono parecchie grosso modo dall'interno di queste istituzioni quello che si dimostra ben vivo è l'attenzione la sensibilità per il grande patrimonio da custodire e da mettere in mostra mettere in mostra dopodiché le mostre possono essere fatte bene con grandi allestimenti o fatte in modo raffazzonato non basta avere dei bei quadri da mettere in mostra perché la mostra sia ben fatta naturalmente esiste anche uno specialismo e esistono le tecniche nel mettere in mostra esiste un buon teatro e un cattivo teatro a Venezia tutto anche la politica si teatralizza l'ultimo incontro del ciclo verrà dedicato ad Epiturcato e al grande episodio della resistenza che più teatrale non avrebbe potuto essere la beffa del Goldoni ma è Venezia anche questo evidentemente in onda per tutto sarebbe stata inventata questa impresa partigiana qui però i giovani non si accontentano di andare a vedere tutto insieme Bellini o tutto insieme Peronesio tutto insieme Tintoretto benissimo figurarsi se a Vedova non piace Tintoretto certo che sì e quanto anche ne ha preso ma qui c'è il versante del fare del fare nuovo del fare nuovo ho scelto Emilio Vedova come rappresentante ma i nomi potevano anche essere altri e siamo nel pieno dello scontro figurativo non figurativo astratto realista neorealista quando come il dibattito si riaccende e ripeto la sensazione che loro comunicano poi dobbiamo andare a vedere per ciascuno di loro quanti anni ha se 20 se 25 se 30 se 35 non è lo stesso ma la sensazione è quella dell'alba come se dietro di sé avessero che cosa hanno dietro di sé solo il biografo del singolo solo lo storico dell'arte veneziana e italiana degli anni 20 e 30 può approfondire ma per esempio io mi ritrovo qui tra questi grandi innovatori all'angelo per esempio il famoso ristorante dell'angelo Peggy Guggenheim che arriva finalmente a pagare un po' di pranzo e un po' di cena perché Carrain i due fratelli Carrain va bene pagare il pranzo e la cena a questi pittori squatrinati sono bravi possono pagare con disegni eccetera però se arriva anche questa miliardaria non è male però questo santo maso che troviamo accanto a Vedova io come studioso dell'università di Padova non posso non sapere che il rettore fascistissimo l'archeologo Carlo Anti ha scelto proprio santo maso per dipingere i volti dei rettori che ornano l'appartamento rettorale che Anti che è un uomo di cultura un grande uomo di cultura apertissimo all'arte contemporanea allora lui vuole il meglio ma purtroppo se questa palla al piede dei sindacati degli artisti perché il fascismo ha organizzato la sindacalizzazione degli artisti e una normativa per cui una certa percentuale di artisti locali deve essere presa quando si fa un'opera pubblica e allora siccome lui sta rifacendo Anti è rettore dal 32 al 43 deve cadere il fascismo perché se ne vada via e gli succede il concetto marchesi ci sono i livelli l'unico comunista presumibilmente tra gli ordinari dell'università italiana che però aveva giurato nel 31 e allora De Pisis Mascherini chi è l'architetto di Anti è Gio Ponti chi fa il liviano Gio Ponti e lo scalone per andare al rettorato a Gio Ponti purtroppo ha voluto fare anche il pittore per cui segui gli affreschi lungo la scala che sale verso il rettorato non solo il massimo infatti non riusciva a finirli ha bisogno di aiuti eccetera ma insomma ha scelto nel caso dei ritratti io ho visto anche le carte in cui Anti proprio indica che cosa vuole non vuole grandi opere d'arte vuole dei ritratti somiglianti invece che delle fotografie preferisce che ci siano i quadri sia per i rettori ottocenteschi quelli che fa Pisani e sono bruttissimi e quelli che fa Sant'Omaso sono almeno rosei e paffuti molto meno tristi e oscuri di quelli ottocenteschi del Pisani ma come vi dicevo prima gli artisti devono pur campare e non hanno uno stipendio e stanno sul mercato del proprio tempo e vendono a chi è disposto a comprare allora che l'Università di Padova abbia un rettore illuminato che fa scattare prima che sia in funzione la legge bottagliana del 2% e la legge per cui un 2% della cifra globale va usata in opere d'abbellimento quando si fa una stazione un tribunale o che so io mi sembra una brutta cosa sarà stata fatta il fascismo ma viva che l'ha fatto e quanti e quanti sironi anche dai nostri parti dobbiamo o De Luigi visto che nella nostra aula magna un De Luigi fronteggia un sironi nell'aula rifatta da scarpa stiamo al massimo livello quindi anche a Ca' Foscari anche se non c'è stato un grande rettore e così durevole bene Vedova Vedova è del 19 questo è un diario di Vedova scritto la metà degli anni 50 e pubblicato in tedesco nel 1960 il curatore il critico tedesco Werner Hassmann riassume così in poche righe che perciò vi leggo il fare di Vedova ripeto siamo alla metà degli anni 50 quindi ci sono altri 10 anni e che anni per Vedova e per tutta Venezia artistica secondo quello che dice Romanelli nel suo saggio quella Venezia del 45 46 47 è la capitale artistica dell'Italia del dopoguerra ancora una volta perché Selvatico a suo tempo ha fatto la Biennale e la Biennale a questo punto viene gestito in questo modo illuminante e di grandissima apertura internazionale ma intanto l'istituzione era stata pensata realizzata tenuta viva per tanti anni e poi perché la bevi l'acqua e poi perché capisano tutte cose che comunque ovviamente pesano sui capitali sulle forze economiche e mentali della città e ci sono e avrebbero potuto non esserci e invece ci sono ed essendoci vanno raccontate e non sempre omicidio e suicidio della morte a Venezia bene che dice il critico tedesco dice egli egli è vedova ha cominciato verso 1936 37 dunque quanti anni ha 17 18 con uno slancio quasi geniale erano disegni di intricati spazi architettonici veneziani nei cui particolari ritroviamo già gli stessi segni di portata espressiva e la stessa tensione dialettica tra pennellate attive aggressive secche e figurazioni di linee e grovigli fatti di ricerca e meditazione che ancora oggi caratterizzano la grafologia della sua scrittura pittorica poi vennero anni turbolenti di studio e migrazione Roma e il romantico mondo ottocentesco di casa Mancini che era anche un parente la sua rivolta e fuga a Firenze nel plebeo e miserabile quartiere di San Frediano e quello di Pratolini del neorealismo e ancora l'incontro con il romanticismo nordico e il suo mondo fantastico e fiabesco conosciuto per mezzo di un amico altoatesino durante un breve periodo di vita in comune infine il sogno di una nuova convivenza sociale degli uomini nel reciproco rispetto e senza la miseria dell'oppressione e della persecuzione che naturalmente quest'uomo così entusiasta e profondamente artista era un antifascista militante certamente sì se parliamo dell'esistenza se parliamo degli anni precedenti chiediamo al diario dello stesso vedo che cosa era accaduto è un diario in perenne ebollizione da cui è molto difficile evincere tratti di cronaca continuata vengono fuori periodi fame nera e quando poi la fame non c'è di scatenamento vorace perché c'è finalmente da mangiare e questo è vero a livello fisico e più materiale come è vero anche a livello degli incontri artistici e culturali a Venezia o altrove volevo leggere forse faccio a tempo sì due citazioni e con ciò chiudere premio Bergamo raccontato dallo stesso vedova ero stato riformato avevo ottenuto sei mesi e via di seguito trovo modo di non fare la guerra la mia formazione antifascista non mi permetteva di essere un attivista di codesta vicenda lo sarei stato più tardi riportando neanche una ferita cioè facendo il partigiano nel bellunese cosa si faceva a Venezia in quel periodo 1941-42 c'era chi lavorava per i mosaici celebrativa dell'E 1942 o addirittura per la chiesa dell'E 1942 Pizzinato altro grande nome del miliardro per guerra ma altro grande nome della resistenza perché nel suo studio diciamo che si crea il buco stampa cioè la stampa partigiana fa capo a un luogo di cui è responsabile il pittore Pizzinato prossimo membro del gruppo dell'angelo ma anche della separazione tra figurativi e astratisti diciamo spazialisti Pizzinato era venuto a Roma portava con sé l'eredità dei fiori secchi di Maffai che noi vedemmo esposti in quella galleria Ungania San Tommaso vedete i nomi che sono gli stessi di Maffai tra un morandismo e un brac andava a leggersi la lezione dei bizantini assieme a Minassian Pregno Bergamo 1942 inviai Colà tre lavori Caffeuccio numero uno Caffeuccio numero due e una natura morta avevo visto in alcuni libri della biblioteca della Biennale i roux probabilmente i flamenc opera di un colore denso dove le esperienze post impressioniste toccano squadrature e rovesciamenti di piani che da Cézanne vanno all'espressionismo dunque vedete che certe cose le vedevano con difficoltà ma le vedevano il premio Bergamo fu un appuntamento tacito fra le forze più progredite che si trovavano in Italia ricordo l'aria variamente veramente veramente allarmistica di quella giornata l'aria veramente anarchica con i piatti che volavano nell'alto della Bergamo alta con le esplosioni di bicchieri contro altri bicchieri con quel fascista in camicia nera che nel colmo dell'esasperazione tirò fuori il pugnale per darmelo nella schiena con quell'aria di congiura che serpeggiava nella tavolata i Migneco i Gutuso i Birolli Treccani Apollonio eccetera con gli Elio Vittorini uno strano convegno delle forze intellettuali antifasciste in un premio che fatto da certi fascisti doveva diventare una partenza quasi ufficiale antifascista e beh non è stato un gran finale applausi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti